bene diciamo ora tutti che casino sono la cesta bow blade 3 sto scherzando no bow blade 2 ah trovate 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 ciao ragazzi io sono gisius e oggi riprendiamo con danger o plenty e siamo insieme a cece bene perfetto allora purtroppo cece è entrato nel gioco perfetto purtroppo oggi né squid né ale possono giocare con noi l'ultima volta causa mia connessione del tubo abbiamo dovuto interrompere un po' mi è spiaciuto sorry ancora cece eh vabbè però la connessione del tubo quindi oggi riprendiamo e andiamo a salvare cece perché l'ultima volta era una ho appena scoperto sì anche perché ho appena scoperto di avere un fottile di torce e l'ho scoperto solo adesso ne ho 48 io allora mi devi dire le coordinate innanzitutto allora le coordinate me le sono scritte qua aspetta eh allora x209 sì eri su eri su a livello di altezza mi pare no sì y122 sì mi tocca devo salire allora ok tu sei salito con un pillar mi hai detto io vedo un pillar ma non so dove sei tu lo vedi è illuminite ecco se appena ok ti vedo ti vedo ti vedo lontanissimo adesso provo a lanciarti una freccia eh non addosso mai possibilmente sì ho sentito una ok ok non ho neanche preso il ponte sì sei in quella direzione sono qua in fondo guarda ok ah non ho visto una strada non avevo visto la strada ok oddio chi mi spara le frecce sei tu o uno scheletro sono io sono io ok smettila perché mi fai cagare addosso sei tu che spari sì sì sto sparando le streghe ok una è morta non c'è niente eh no l'ho preso tutto io hai bisogno del cibo? sì tanto eh qua contro la collana è finito grazie tieniti qualcosa delle mie cose perché sennò io rischio di morire perdere tutto eh dissi quello che ha l'armatura a quello che non ne ha neanche un pezzo tot ma sì tot tieni qualcosa no 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 a rischio di... ma ce ne ho già le spade ce ci ho scale to la pozione della visione notturna l'hai già usata tu? te la sei ripresa? mi so ripresa perfetto aspetta no uno non lo... no no io non l'ho ancora usata allora questa è un caracciabile e dura sei minuti potremmo anche usarla vai vai io più o meno so dove andare adesso si vede oddio che bello seguimi io ho le torce anche anch'io ma abbiamo la visione notturna cosa servono le torce? Beh, torciamo che così non spawnano. No, c'è già pieno però. Ah, ce l'hai fatto, ok. C'è uno spawner qua, c'è c'è c'è, vieni qua. Ci sei, sei dietro. Vieni qua, vieni qua. Arrivo. Arrivo, arrivo. C'è pieno di spawner qua. L'ho visti. Oh, è spawnato un creeper. Ho detto a quello in coordinate, va. È spawnato un creeper. Ok. Ho spawnato un altro. Spaccalo tu, perché sto rompendo e sto uccidendo un creeper. Chiara, chiudi, ecco. Spaccato. Buon, ci siamo. Ok. Mi si è lotto una spada, ma ne abbiamo tante. Io ne ho 500 miglia, se ne vuoi una. Ah, vabbè, aspetta. Ne ho 5. Raccolgo un paio di blocchi, perfetto. Oh, oh. Ho fatto una cazzata. Così ho fatto? Oddio, aiuto. Oddio, cosa c'è su tutti sti cactus? Guarda, cadono giù i creeper. Eh, buttiamoceli giù. Oddio, 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 oddio. Oddio, sono caduto giù. Ok, perfetto. Ok, creeper. C'è pieno, c'è pieno, c'è pieno. Aiuto. Slogga, sloga, sloga, sloga. Ed uno scheletro dorato. Dovrai riuscire, dovrai riuscire a risalire. Faccio un buco nella parete. Ok, c'è sopra di te, sopra la scala c'è un creeper sopra. Ho sentito che è caduto qualcosa e non mi è piaciuto. Eh, è un creeper. Occhio, vedi, facciamo esplodere il meno possibile. Sono in mezzo ai cosi. Oh mio Dio. Guarda quanti cactus. Beh, abbiamo tanto colorante verde. Oddio, perché vedo tutto rosso? Vedo tutto rosso. Ah, mi sta scadendo la visione notturna. Eh, io ho 20 secondi. Usiamo la mia? Eh, aspetta, aspetta. C'è una doppia cesta qua con delle... Torce. Sono morto. Vai a prendere la mia roba. Eh, aspetta, devo spaccare... Ok, ok. Chi è che ha preso le cose nella cesta? Riesci a riprendere la mia... Riesci a riprendere la mia roba? Sì. Oh mio Dio, ma qua è buissimo. Ok, allora io... Vado a tornare. No, mi è venerata una strega. Eh, io dovrei avere una visione notturna. Dovrei avere una pozione della visione notturna. Dove diavolo sono i materiali? Oddio, mi sono bagato in una cesta. Oddio, mi sa che sto... Perché? Dove sono tutti i materiali? Dov'è il pietrisco? C'è qualcosa che non va... Non sto più prendendo danno dal veleno, non mi piace. Nooo, perché... Oh, porca te. Non mi va il server. Sei morto? Ok ragazzi, dopo che ancora una volta la mia connessione sia dimostrata la connessione di merda che quanto connessione mia è, Ceci riesce a farmi un po' di cose, una spada, un piccone, cose di questo tipo. Va bene. Dobbiamo andare a recuperare la roba nel... La roba, quello che è rimasto, non è rimasto più niente. Ceci è caduto da un posto altro. Secondo me comunque quest'area l'ha esplorata tutta Ale, non vorrei dire però. Sì, sì, secondo me è andato avanti. E allora vieni un attimo, vieni un attimo qua da me, che quest'area non l'ha esplorata. Oh, una gallina, una gallina zombie! Due zombie. Sì, ma mi fa più, mi ci fai più paura la gallina zombie. Scheletro, attacca il suo pesce dallo scheletro. Oh, mi ha droppato un arco, grazie scheletro. È uno spoiler di creeper, aiuto. Ok, 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 ho un arco. Bene. Ci siamo morti. Tutti. Che casino. Eh, io ero qua. Eh, stavo cercando di chiudere qua, io non ce l'ho fatta. No, la roba non c'è più. No, peccato. ah ma la cesta è proprio vuota si perchè secondo me l'ha già presa qualcuno no ma Ale dai allora Ale è andata avanti per forza guarda ci sono torce ovunque mi fa arrabbiare Ale non penso che il creatore della mabbia abbia progettato la mappa per congelare torce dentro c'è una mano, una mano, quattro zombie eh cado, se cado muoio non abbiamo cibo purtroppo ma perchè è andato avanti mi fa arrabbiare adesso noi non possiamo andare avanti perchè non abbiamo cibo magari qua dentro c'era del cibo ok non mi ha avvelenato la rotta in flash ok forse vedo la lana forse oh creeper io ho visto quello ok ho recuperato un po' di fame tu non hai visto quanti zombie ci sono ho visto ho visto eh dobbiamo ucciderli per forza ci servono ci c'è eh ho due cuori coprami le spalle coprami le spalle dimmi se c'è qualcuno dietro dietro no, dietro no ok devo fargli fare il giro tondo tipo sembra di fare le zombate, la giastrone e via dicendo ho due cuori oh oh mi hanno colpito, mi stanno colpendo no 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 no, un cuore un cuore, un cuore, un cuore, un cuore creeper che mi segua aiuto potrebbe esserci una chest di là eh sono chiuso ok ora scavano di sotto ok no è uno spawner di creeper però c'è una chest con un cartello e non l'ha presa nessuno questa perché c'è un blocco sopra però sono anche circondato da mob però ho torcificato oh mio dio dove mi ero messo oddio ecco sono morto, sono morto, sono morto sei morto? aiutami, aiutami no, oddio sono nella stessa fottuta identica situazione io ne volevo andare a provare a prenderlo e vedo anche tutto il percorso che ha fatto Ale perché si vede c'è le torce esattamente dove è passato come se fossimo dei bamba e non ci accorgessimo che lui c'è passato i punti di luminite sopra la lana ah beh poi basta guardare basta guardare dentro la cesta se ci sono tre blocchi o due di lana se manca qualche blocco di lana vuol dire che l'ha preso si ho rotto lo spawner di creeper sono la cesta aspetta bowblade 3 stai scherzando no bowblade 2 cc cos'è? il bowblade l'arco dall'inizio ah quello che dai che adesso ci arrivi qua eh si perché ho anche due stack di frecce bisciotto la gente ti dico solo che sei pieno di mob di fianco a me quindi devi stare lontano però eh tu devi darmi una mano però di torcificare te l'ho detto se no non ce la faccio si no io ho torcificato io ho cercato di torcificare un po' però c'è un cioè adesso mi disconnetto un attimo cioè eh dove sei tu però io non so dove sei aspetta fermo sono dentro l'unico coso di luminite che non va dall'alto verso il basso ma va dal basso verso l'alto magari tu andando non lo vedi vedi subito la lana perché siamo esattamente ah no aspetta mi sfiga c'è uno spawner di creeper in parma allora dai provo ad entrare vediamo un po' hai detto che sei all'interno ah ok ti vedo ti vedo sono appena spawnato si ciao ciao occhio 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 dai che ci entri dai che ci entri entra nel tunnel entra nel coso poi da dentro è già vuoto occhio eh il tunnel dove c'è c'è da qualche parte bucca butta giù la luminite ti vengo a aspetta arrivo no no non voglio morire così non so dove farti il buco perché non so dove sei aspetta che cerco il nome cazzo ma c'è ci sono dentro sei dentro non ti vedo dentro ci sono dentro ah sei dove c'è la scala si 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 ho un cuore e mezzo e io non ho cibo tu hai cibo si l'ho appena mangiato non mi recupererà niente perché ok ok vieni qua sopra vieni qua sopra e guarda la lana che bella sei aspetta sto ci sono tanti di quelli zombie giù che ah si one shot one shot tu se no io inizio a fare il ponte di luminite però ho solo 14 cioè in totale ho eeeh 26 bloc si ma arrivano gli zombie a 4 arrivano gli zombie a gruppi di 4 ah misera quanti c'è tanta di quella carne marcia giù secondo me che quante frecce ho fatto giù ho fatto giù mezzo stack di frecce no oh mio dio quanta roba che c'è lì per terra eh lo so se vuoi andare a prenderla eh però dopo mi apri no mi faccio un pila eh aspetta 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 allora facciamo una cosa di questo tipo sono già mi sono già buttato do ok sono finito ok prendi la lana alghisi alghi eh ho un cuore sto cercando di lottare per la mia vita cerca di prendere c'era un casino di esperienza lì per terra me ne frega un cazzo dell'esperienza va bene vabbè ma è utile vabbè io ci provo a tornare ta 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 ok dovrei avere chiuso e quindi noi stiamo facendo tutto un lavoro che in realtà è già stato fatto in pratica bello molto bello ho 17 rotte in flash si si posso vivere ok arrivo sono tenerario mi ricorderò la strada no però fa niente allora fammi capire oh mio dio vedo le cose illuminite e del mio ponte no perchè sono passato di qua sono un idiota non ci sono eh la lana la vedo anch'io adesso mi vedi? mi vedi? ho due casciotti mi servirà una mano si ti vedo ti vedo aiuto ti cecchino in un bau da lontano vai ok dimmi se sono spenti hai del cibo hai del cibo si ho nuova rotte in flash mi puoi passare qualcuna che ho un coscio? aspetta 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 paura di morire dimmi se ci sono scheletri ti prego eh no cosa no? giuro non lo so ma si a questo punto opterei per una corsa verso la lana oddio però ci stai arrivando sei talmente tanta eh non ne ho più io ne ho due eh ti devi devi andare sulla lana devi andare più vicino che puoi alla lana ti butti sopra e da lì sopra sopra ecco si allora aspetta quindi adesso qua faccio la curva tu cecchino si fai la curva si sto guardando se c'è qualcuno ma non vedo nessuno oddio forse non finisco sopra eh vabbè farò un'altra curva eh fai un'altra curva per un blocco o due mica muori dimmi che sopra quante vita hai tutta tutta allora potresti farcela vai si no ce la fai buttati buttati si si lana c'è solo un blocco perfetto stai scherzando no giuro questo per questo lo bagniamo basta ma magari l'ha portata a casa ho capito no non l'ha portata a casa l'ho capito ma allora perché no ma allora perché non ce l'ha detto che non faceva non stava lì a morire 145 risali 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 prima di fare cazzate risali prima di fare insieme fai un pillar fai un pillar fai un pillar fai un pillar o se no fai una scala fai una scala fai una scala che è meglio non ci riesco perché fai un pillar faccio un pillar valla fai un pillar dimmi quando sono al tuo livello eh stop ok torniamo a casa eh ma qua ci potrebbero essere delle ceste non frega niente torniamo a casa eh ma non abbiamo niente siamo dei poveri del cazzo ah no c'è uno zumbettino occhio occhio c'è c'è occhio non spaccare non spaccare oh oh sta arrivando a te oh cazzo sono morto sono morto sono morto stanno arrivando tutti sono morto c'è giù la lana eh mi sa che oggi mi tocca farlo a tutta te dov'è la lana giù in basso ma occhio perché stanno entrando tutti gli zombie in basso dove non vedo niente ah giù al livello giù al basso dove siamo entrati si ho capito lì ma non c'è qua come non c'è non c'è mi stanno entrando tutti gli zombie sta cadendo boh è caduta giù 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 allora oppure l'ha preso in uno l'ha preso in uno zombie non so dovrebbe ridare cazzo io ho poca vita ah io lì non ci torno non ci riesco mi hanno chiamato tutti gli zombie c'è cioè c'è il tuo piccone dov'è la lana adesso ah ho trovato ho trovato ho trovato adesso tu ci ci vieni qua e mi fai da scorta